I lavori di ristrutturazione dell'ospedale Castiglione Prestiani di Bronte non partono e il sindaco Pino Firrarello ha deciso di scrivere una lettera al prefetto etneo Maria Carmela Librizi chiedendo di trovare una soluzione. Ho giuito ad ottobre quando l'ASP ha riconsegnato i lavori di ristrutturazione dell'ospedale, rivela il primo cittadino brontese. Mi sono preoccupato a gennaio quando il cantiere nei fatti non era mai stato riattivato. Adesso che siamo arrivati a marzo e non vediamo ancora alcun operaio all'opera ho deciso di scrivere al prefetto chiedendo il suo intervento per evitare che le speranze dei miei concittadini di un intero territorio di avere un ospedale migliore vengano vanificate. Si parla di lavori consegnati già nel 2007, mai terminati, poiché qualche anno più tardi la ditta giudicatrice è finita in amministrazione controllata. L'ASP, dopo una lunga procedura burocratica, lo scorso ottobre ha riaffidato gli interventi alla stessa vecchia impresa che li aveva iniziati. L'ITER ha visto anche il coinvolgimento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Bene, dopo aver applaudito la riconsegna dei lavori e dopo aver sperato che tutto si svolgesse nei 18 mesi previsti dal contratto, ci siamo accorti che fino alla data odierna in cantiere non ha operato alcun operaio. Si legge nella missiva che vede un firarello timoroso che nessun intervento inizi. Il timore c'è. All'inizio è immaginato, prosegue il sindaco, che si trattasse solo di un ritardo fisiologico derivato dalla necessità da parte dell'impresa di organizzarsi. Oggi, a distanza di quasi cinque mesi dalla data di consegna, ho ritenuto doveroso lanciarle l'allarme per scongiurare il rischio che non si rispettino i tempi previsti dal contratto, ancora peggio che i lavori non vengano realizzati. Certamente più giorni passano senza procedere, maggiori sono le possibilità che non si concludano in tempo. A gennaio il primo cittadino aveva già segnalato i ritardi all'Asp, parlando con il direttore generale Maurizio Lanza. Ed in quella occasione, dice Firarello, ho intuito le loro difficoltà a garantire la ripresa immediata dei lavori. Per questo adesso è opportuno parlarne e chiedere l'intervento dello Stato.